Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nickwing Game, siamo di nuovo qui dinanzi al toro, al caprone, chiamatelo come volette, molto triste, ferito e sconsolato, e noi dobbiamo aiutarlo, salvarlo, presumo. Aia! Non è contento di vederci, mi so. Aia! Uh, che colpa al cuore! Ma poverina ragazzi! Oh, fermi, fermi, fermi! Ma che cazzo è questa? Colpo di scena, giovane rosso! Ma che cazzo non cazzo, non cazzo non cazzo. Sommiglia molto il bimbo, il neonato che abbiamo visto la volta scorsa nella zona segreta. Veramente, sono schifato da... ma guarda, ma... E anche sulle fiamme, no? Cazzo... Guardare un bel entrambla! Sto cercando di capire Che cacchio sta facendo Ecco Cacchio E dai Mettiglia lo stesso ragazzi Merda E niente Ma pessimo Utilizzo ragazzi Delle acciocche Spin 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 ablaze Spin Aim Thrust And burn E' tosta E' tosta E' tosta Secondo me Ha anche due fasi Questa I thought you were better than this I've got more Take my firepoint E' tosta Perfetto! ma no Non mi sono mai riuscito a me in giro, e tu sei proprio un cazzo! Vieni, bambini! Vieni, vieni! Vieni, 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 vieni! Grazie a tutti. 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 You thought you could defeat me, didn't you? Grazie a tutti. Yeah. Grazie a tutti. 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 Non lo so, ragazzi. You cursed monkey. It's... It's... hidden... from... dare... it... cause... and... effects... not... effects... not... and... 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti! C'ho creduto ragazzi, ma porca troia, c'ho creduto fino alla fine! Ah, meno male, meno male ragazzi, ci fa ripartire da qua! Però Pino, ma ci si o ci fa? No, non li hai vuocati, ma che palle! Bravo Pino, curami! Madonna! Adesso, ragazzi, come sempre iniziamo a morire a ripetizione! Eh, Pino, mi sono appena curato, anche i... Guarda! Guarda! Bravo Pino! Buongiorno! Grazie a tutti. Ma che cazzo? Non riesco a scrivere questo attacco, eh. Buongiorno. Quindi quando spieghi... Sistenti, sono buono. Ma vaffanculo, ma vaffanculo, ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Considerate mercy. Ma vaffanculo. 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 Ma dentro. Ma vaffanculo. Ma... Ma vaffanculo. Qu miejscugine. No, old culto! This is how I... Shut up! No, I hope! No, old culto! Pathetic. How pathetic you are! Oh... I never sought to fight you. Yet you are ignorant of their manipulation. Beyond flaming mountains lies Mount Lingshan. What? 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 Ma questa cosa non è mai successa prima eh? Oh! Ma questa cosa non è più vero! Ma questa cosa non è più vero! Ma questa cosa non è più vero! so so One nin told me this. One nin told me this. One nin told me this. Still holding on despite it all. Does your vengeance weigh more than your family? Spit it out now, Miss Relic! My king, I'm sorry for my lateness. I turned to them, but none offered help. My lady, forget it. I implore you to show mercy and spare my son. He is the last of the Yaksha's bloodline in the west, with an origin most tragic and twisted. Now he poses a threat no more. Should you grant him mercy, I, Rakshasi, and the Bulking shall retreat ourselves to secluded meditation. Along with our children, we will never leave the mountain again. He is our son. We will bear his punishment. If it pleases you, my plantain fan is also yours to take. Flames have paved my way. Through flames, I shan't stray. May, vain was my flame, full revenge destined to stray. That light lies in our submission, kneeling and begging. You shall never witness it. We will neverkah. Sasia, I didn't know the Leben the Mount. a a a a a a a a a Black Bear, take this pair of eyes. You've served the righteous cause, Illarraq. These ears are yours. Your power has gathered in you, Illarraq. Keep this nose. You've endured hardships under I. Go with the town. And the bull, it is the hardest to turn against a sworn brother. You can have his body. The bull, it is the most important thing. Never have you made a good choice. Save your strength, brother! We get to slay our way to the court and seize that senile emperor! This one must be the chief of their troop. Brother, watch my back while I go play with him! Your reluctance is plain. Just like my own. They forced me to drink from the river of childbearing, to bear that boy in my womb. If not for that monkey, we could have lived our separate lives in peace. As if none of this had happened. You're all the truth. You knew who I was from the start. Why did you choose to be their lapdog? I never wanted to sever our ties. If kinship needs anything to you, give me that relic! And let me avenge my people! My king! Let the monkey have my fan! And there will be no trouble! Your brother, I've disciplined. Your boy, I've given away. Your wife's fan. Today, I'll take it with me too! Find a master, and serve the right. It's the only path left for the likes of us. Don't you understand, brother? Wukong! I took out the bull's concubine with a whack of my rake too! Turned out... She was a foxgwai! She was a girl! She was a big master! No, she was a girl! A girl, she was a father. She was a girl, and you're a girl darüber! There's a girl! They're a girl! She's a girl! I was a girl! Oh I don't know! She's a girl! Grazie per la visione Grazie a tutti 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 il cattivo però vabbè capitolo 5 è completato ok molto molto bene ragazzi e io direi che ci possiamo fermare qui non so quanto sarà uscito lungo l'episodio con tutti i tagli ragazzi ma nella seconda fase ci ho messo parecchio meno male che ci faceva ripartire dalla seconda fase perché altrimenti sarebbe stato un incubo sarebbe stato impossibile comunque bella boss fight mi è piaciuta tanto bello il finale bella la storia come sempre ragazzi storia stupenda quella che ci hanno raccontato a fine capitolo e quindi niente penso che il prossimo sia l'ultimo capitolo quindi siamo a buon punto dunque io mi fermirei anche qua voi come sempre fatemi sperare la vostra lasciate un like condividete iscrivetevi al canale sempre se vi fa piacere e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti